Se stai avendo problemi ad avviare God of Ragnarok sul tuo computer è possibile risolvere il problema direttamente nella sua cartella perché quando sono andato ad aprire il gioco mi usciva così lo schermo nero, poi non partiva e non funzionava niente perché in questo caso se ti appare una cosa del genere vuol dire che il gioco è aperto e sta in gestione attività. Se stai in gestione attività tu scendi fino a giù fino a trovare così God of War, tasto destro sopra, termina attività ok, terminate l'attività e provate di nuovo ad aprire God of War. Ora entriamo direttamente nel suo percorso file, quindi apri percorso file, questo è God of War ed eccolo qua, tasto destro sopra, mostra altre opzioni, proprietà, compatibilità, disabilità di ottimizzazione di schermo intero, eseguite questo programma come amministratore, modifica impostazioni dpi elevati, ovviamente questo è facoltativo però ti consiglio di usarli, quindi potete provare con il dpi programma e poi sistema avanzato, esegui l'override del comportamento di ridimensionamento dpi elevati, se non si avvia con queste spunte attive tu rimuovi queste spunte, faccio ok e faccio applica, se non dovesse andare esegui il programma in modo da compatibilità per Windows 7, prova così in Windows 7 oppure Windows 8 e fai applica e facciamo ok. Se invece è un problema di driver proprio per la scheda grafica, ovviamente avendo una scheda grafica Nvidia, in descrizione ti ho lasciato così il programma Nvidia App, è facile da scaricare e installare sul tuo computer, vado su driver, vado su driver, ecco se devo fare qualche aggiornamento, driver studio o drive game ready, eccoli qua, scarico e installo l'aggiornamento per Nvidia, se no c'è il programma e il pannello di controllo di Nvidia, sempre in descrizione pannello di controllo di Nvidia, ovviamente va aggiunto così l'applicazione sul pannello, quindi vai su gestisci le impostazioni 3d, impostazioni, programma, aggiungi così God of War, sfoglia, entra così nella cartella di God of War, e ci vai a mettere God of War, ed eccolo qua, scendi fino a giù fino a trovare la tecnologia monitor compatibilità G-Sync oppure FreeSync, dipende anche dal tuo monitor, per la velocità di aggiornamento preferita, metto la più elevata disponibile, metto disattivata la sincronizzazione verticale, e applico così i cambiamenti, facciamo sì. Molto fatto, proviamo ad avviare il gioco, esegui come amministratore, quindi, in questo caso, come puoi vedere, avviando il gioco, e se ti esce tipo uno schermo nero così, e al gioco non si avvia, premi Alt F4, chiudi un attimo l'applicazione, tasto destro su Start, gestione attività, scendo fino a giù, fino a trovare God of War, se c'è, eccolo qua, God of War è ancora attivo, come dicevo all'inizio, terminiamo l'attività, e basta. Quindi, vado di nuovo sulla sua applicazione, mostra attropazioni, proprietà, compatibilità, modifica impostazioni di più elevati, quindi visto che questi non funzionano, facciamo ok, facciamo applica. Ora riprovo di nuovo con esegui come amministratori e vediamo. Eccolo qua. Quindi, in questo caso, la disabilitare le ottimizzazioni a schermo intero sulla sua applicazione funziona, prova o a eseguirlo come amministratore oppure non amministratore, e vedrai che il gioco si aprirà. Ed eccolo qua. Quindi, per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video, e noi ragazzi, ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao.